Buon appetito! Anzi in realtà credo che tempo fa l'ho giocata in un video non mi ricordo Però comunque resta una delle mappe che a me piace di più Vediamo cosa riusciamo a combinare raga Che qua pure con le sgrane sarà un macello incredibile Va bene, lei ha ragione guardi Purtroppo raga sta mitraglietta credo che dovrò pushare Perché altrimenti non combinerò niente Questo è solo per headshot praticamente Headshot che non entrano Headshot che entrano Ah, mannaggino E sono bloccato con la roccia dietro raga Ciao Auci Let's go Come on La sinistra è la sinistra che mi pregano Provo andare un po' a destra E basta Che falle sto tizio Ehi Mi sono bloccato raga Non ci capivo più niente Ouch Ouch Ouch, ouch, ouch Sentite, voglio cambiare coltellino E andare tipo Dove sta? Ecco Non vedevo il magete È il magete questo Sì Ah Regà, ho giocato tipo troppo a Tarkov Regà, se vi piacciono giochi come Tarkov Mi raccomando passate a vedermi in live Che di solito regà streammo giochi un po' più hardcore in live Quindi se siete curiosi di vedere cosa combino in live Trovate il link giù in descrizione Ai 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 Guarda che non entro Non leccio ragazzi Madonnina mia Proprio, proprio Non ce prendo proprio Fuck E che Sapete qual è il fatto? Col giocare sempre armi d'assalto Tipo regà Non sono più abituato A Le mitragliette che fanno pochi danni Yikes L'Auga 3 è veramente, 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 veramente forte Allora, poi, storniamo indietro Cerchiamo un'altra Allora, quest'oggi regà ve lo dico che non ho voglia di fare partite esplosive Vorrei magari vedere, provare Oh Supply base Questo è solo teste Proviamo Vediamo di fare un game solo edge Vediamo come andrà Ah Ok, let's go Headshot Hello Headshot vuoi entrare? No Va bene Ah, fuck Da dietro Chi cazzo l'avrebbe mai visto lì? Ah, poi, ovviamente, regà Entro a fine partita Comunque l'APC, regà, è un'arma veramente ottima Ah Pure quello ha le sufe in series Quello lì è un tronco Eh? Cioè, sparava quello davanti e ho ucciso a me che ero dietro Comunque, wait Fatemi un attimo rifare Rifare la partita, magari Ah, però non me va questa Cerchiamo qualcos'altro C'è? Un deathmatch Qualcosa è tranquillo Oh, library Let's go Library ci piace Oh Vediamo come va Library vecchia Ho provato anche una mappa, regà Che sarebbe Library nuova Tipo con Tutte Oh, oddio Con tutte le skin Migliori E devo mettere che è una figata Ah GG Bandito Eh no Oh, nice Dove stai? Oh Un'infinità, regà Holy shit Va bene Headshot Double kill Aia Che palle Sto tizion lì In atto Veramente Ogni due per tre Headshot Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Headshot Chainstopper Fire in the hole Ah Perché mi chiamate ora? Un attimo ragazzi Fire in the hole Holy patati Fire in the hole 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 Ah, sopra C'è stato Quel coionazzo lì, regà Che dobbiamo Buttarlo giù Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Headshot Chain headshot Fire in the hole Non c'ho mai preso Non c'ho mai preso Nooo Regà, non mi entra un headshot Ma che è? Cioè, mi entra un headshot Però Non guanti vorrei io Fire in the hole Chainstopper Fire in the hole Headshot Cazzo, troppi Fire in the hole Fuck Via una lì E una sgrana lì Fire in the hole Fire in the hole Nooo Ah, si è buttato Madonna Regà, mi sento scemo oggi Non Cioè, non sto giocando malissimo Però non me Non sono confident Non so che ho Fire in the hole Madonna mia È proprio star Che non Non mi Non mi fa sentire confident Sapete? Cioè, è forte Come vedete Spacca i culi Però rispetto a un aug Non mi dà la stessa sensazione GG Abbiamo vinto un'altra Comunque sia Boys Questo è tutto per il video Se vi è piaciuto Regà Droppate like Iscrivetevi È stato un piacere Anche quest'oggi Intrattenervi Ci becchiamo Con il prossimo video Ragazzi E bella a tutti Dal vostro Flaity